L'attitudine di questa donna è un'attitudine molto intima, nello stesso tempo è un'attitudine al femminile, è l'attitudine di una donna che cerca calore, lo cerca nei materiali e nel modo di atteggiarsi. La collezione è ispirata alla natura, quindi paesaggi nordici, freddo e voglia di coprirsi, quindi da lì l'esigenza è di cercare dei materiali che siano ricchi, che siano nomi, che allo stesso tempo trasmettano questo calore, quindi molto capospalla, cappotti in alpaca, in cammello, pellicce, molta maglieria, maglieria sempre che dà questa sensazione di calore. I colori sono appunto dei colori naturali, quindi tutte le tonalità dei beige caldi, un intervento invece più vivace del giallo, che resta comunque una tonalità calda e poi come fantasie l'idea di fiori, che è sempre derivazione dall'idea del naturale, quindi l'idea dei fiori, che vengono però rappresentati con una lettura più grafica, un po' come disegno e anche come combinazione, perché sono tutte presentate con abiti che sono metà stampati e metà uniti, un po' blocco colore.